L'arco temporale del racconto nella social writing. Tutti gli scrittori sanno benissimo cosa sia l'arco temporale del racconto, che possiamo definire, facendo un gioco di parole, l'arco di trionfo di una storia. La storia regge se l'arco è forte e ben strutturato. Ma fino a dove e fino a quando quest'arco si può piegare, plagiare, forzare? E qual è la nostra funzione di tiratori? Quando arco e tiratore diventano un tutt'uno? Ce lo potrebbe spiegare il libro, lo zen e il tiro con l'arco. E sì, se l'arte è vivere, tutto ciò che parla del buon vivere e che si pone domande sulla vita è finalizzato anche all'arte. Facciamoci una prima domanda. Il tempo delle storie di finzione, quale rapporto ha con il tempo della realtà? Restringiamo il nostro campo d'azione e guardiamo all'arco temporale o meglio ancora al tempo del racconto nelle storie per il cinema, ovvero nei film e nelle serie e proviamo a fare un parallelismo con conseguenti similitudini e differenze rispetto all'arco temporale del racconto sui social network. Aiutiamoci con uno schema. L'arco temporale della narrazione prevede che nei film abbiamo l'articolazione del tempo in scene funzionale alla storia, tempo del quotidiano ridotto al minimo, lineare e non lineare. Nelle serie tv prevede che ci sia l'articolazione del tempo in scene ed episodi funzionale alla storia e all'episodio, tempo del quotidiano ridotto al minimo, tempo chiuso e aperto, lineare e non lineare. Sui social prevede che abbiamo l'articolazione del tempo in momenti e frammenti funzionale alla condivisione dei fatti accaduti, concezione del tempo rinnovabile e sine die raddoppiamento del tempo reale sine die. Fatta questa premessa dunque abbiamo deciso di approcciare l'arco temporale del racconto come speculum della vita reale. Tutti avrete notato che il tempo vissuto nei film e anche nelle serie si articola in scene, che ogni scena è costruita non tanto in virtù dell'inizio ma della fine. Lo sappiamo sembra strano uno sceneggiatore quando decide di scrivere una storia o quando gliene viene commissionata una non inizia certo dalla fine, ma ne siamo veramente certi. Potrebbe essere un metodo, supponiamo che parta dall'inizio, sì però a ben pensarci, prima di scrivere una sceneggiatura lo scrittore non ha già deciso qual è la storia che vuole raccontare e non sa già per sommi capi quale sarà l'epilogo di quella storia. Non a caso si parla di storie per il cinema e sino ad oggi nell'accezione storiografica la storia ha un punto di inizio e un punto di fine, inoltre un argomento diventa storico quando è concluso anche solo in una delle sue parti. Lo sappiamo, sembriamo complicate e confuse, ma questo avviene perché pensiamo insieme a voi e pensare insieme è un ottimo modo per non far subire al lettore passivamente ciò che legge. Per convenzione, il tempo inteso come tempo cronologico del racconto può essere lineare e non lineare, ce ne parla molto bene lo sceneggiatore Robert McKin's story. Una trama classica inizia in un momento preciso, avanza in modo ellittico più o meno in una continuità temporale e termina in un momento successivo. Se si utilizzano i flashback lo si fa in modo tale che il pubblico possa continuare a collocare nella sequenza temporale gli eventi della storia. Sempre McKin ci dà queste due definizioni per tempo lineare e tempo non lineare. Tempo lineare, una storia con o senza flashback organizzata in un ordine temporale di eventi che il pubblico può seguire è narrata in tempo lineare, tempo non lineare. Una storia che rimbalzi a casaccio nel tempo confonda a tal punto la continuità temporale al punto tale che il pubblico non riesce a comprendere cosa succeda prima e cosa dopo è narrata in tempo non lineare. Visto che il nostro intento per il momento è mettere a confronto la struttura narrativa dei social con quella dei film e delle serie, provate a domandarvi quale direzione segue la narrazione dei social, se la prima o la seconda. Prendetevi tutto il tempo necessario, noi continuiamo a scrivere, certe che necessariamente al vostro ritorno ci troverete dove ci avete lasciato. Non ci sostituiamo a voi nella risposta alla domanda a cui probabilmente avrete già tentato di rispondere, ma non possiamo fare a meno di sottolineare come inevitabilmente la struttura narrativa dei social in relazione alla vita vissuta sia stracolma di ricordi, o perlomeno di momenti destinati nella complessità della narrazione a divenire tali. Il racconto sui social è sempre un passo indietro alla vita e uno avanti, una specie di guerriero uno, come si direbbe in termini iogici. Grazie a tutti. Grazie a tutti.